eh io voglio guardare che si appoggiata eh, guardare che vuole rispondere a tutti eh, guardare che vuole rispondere a tutti guardare con lo prendo no, ma lei potrebbe essere che viene qualità, ma lei deve dovrei, eh, lei dovrebbe essere successo non ti lo vuole ci prende l'ora mai no, penso che sì, perché non mi chiacchia di giovane ma che ha finta non guarda mi piace guarda niente è un bambolo qui ma ma non mi piace non mi piace poi è finta La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. La scala di condizione ho tolito la porta dei fatti doni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.